Dovranno capire dove sono e se toccare terra a destra o a sinistra. Se rimarrano i punitori. Dovranno decidere il tappocio. La sposa 1 procede a 3 metri in profondità nell'ospurità più totale. Con tutta esasperante. Per prima cosa, sono legati tutti assieme. Hanno una trentina di fili di attrezzatura. E' una posizione anche volontaria. Quindi, magari, quando ruotano, non saranno degli obiettivi. Ma... In 2 ore... Ora, gli restano forti. Ma di loro, non c'è traccia. Una volta fredda la spina, dovrebbero uscire tutti assieme. Radunarsi sulla spiaggia, controllare uomini, armi e attrezzature. E poi procederemo alla missione. A momenti dovremmo vedere spuntare le prese. Non sappiamo cosa abbiano deciso. E' lo scopo dell'esercizio. Mettere in condizione...